Inizio video in diretta, eccomi qua, vediamo se qualcuno è collegato, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, vi faccio una diretta improvvisata perché mi hanno avvisato all'ultimo momento, mi fate un cenno se c'è qualcuno, fatemi un cenno, grazie. Oh che vedo un'anima, Patrizia, buonasera, buonasera a tutti, eccomi qua, vi faccio una diretta veloce, improvvisata, non era programmata. Ciao Elena, ciao amore, se avete delle domande da farmi nel frattempo, magari vogliamo chiacchierare un po', sentire di cosa vogliamo parlare insieme. Ciao Daniela, ciao amore, Laura, ciao, Patrizia, oh che vi vedo, qualcuno arriva, eccolo qua. Poi vabbè, se gli altri non arrivano si collegheranno dopo perché non ho molto tempo, perché lasceremo un po' di spazio agli altri. Laura, buonasera, Laura Urbani e Laura Ricciardi, faccio un po' fatica a vedere, quindi forse è meglio se metto gli occhiali perché sono un po' cieca, ecco qua, e luce fu, ecco, così ci vediamo. Allora, io vi parlo di una diretta un po', vediamo, vi parlo del dolore, del mio percorso, del dolore che passiamo ogni tanto qui si rabuglia, magari vado fuori così c'è più luce, vediamo un po', vediamo un po', scusate, ma mi organizzo meglio perché altrimenti, eccoci qua. Ecco, allora, magari parliamo di, eccoci qua, mi vedete, sì, tutto bene, però io non vedo voi, scusate, ma mi cerco di organizzarmi in qualche maniera perché ho cercato di, però qui è buio pesto e quindi eccoci qua, eccoci qua, ci siamo, forse ci siamo, bene. Allora, parlo del dolore, vi parlo del percorso, un discorso abbastanza complesso, cercherò di farlo in brevissimo tempo, dove parlo della mia esperienza personale e voi magari potete parlare, potete farmi delle domande giusto per interfacciarci uno con l'altro del dolore, di questo dolore di madre, perché parlo più che altro del dolore di madre, perché ho provato giustamente quello anche se poi anche gli altri dolori non sono né di serie A né di serie B, ma il dolore è dolore e quando succede questa devastazione, ovviamente c'è questo vacillare, questo non comprendere, questo dire la prima cosa che si dice perché è a me. Francesco, ciao tesoro, ciao caro, perché è a me, la risposta non c'è, perché è a me, la risposta la si trova piano piano con il tempo, quando poi si riesce un po' a comprendere che il perché è a me è dovuto dal fatto che forse, io dico sempre forse perché la verità in tasca non ce l'ha nessuno, che forse dovevamo imparare qualcosa. Io dal mio dolore che cosa ho imparato? Ho imparato, che cos'è il grande amore? il vero amore. Ho imparato a discernere un po' le cose, a comprendere un attimino di più, a dare più valore a tutto quello che è intorno a noi è un po' scontato. perché è scontato? Perché la vita quotidiana che noi abbiamo, questa frenesia, questo correre, questo non pensarci a me non può succedere, automaticamente succede. Ecco, Gina, Marisa non potevi mancare all'ultimo momento alle via, scusate non sono neanche preparata, quindi va bene così, le dirette sono più belle che quando sono così, Dora Cini, anch'io sono una mamma orfana, ce ne siamo tante, ce ne siamo tante dove ognuno di noi mano nella mano, io credo che ci possiamo aiutare. Ci possiamo aiutare se lo vogliamo, ovviamente, perché poi a volte si tendono le mani, ma quando dall'altra parte non si ha voglia, non si può, ovviamente, come giusto che sia, obbligare nessuno, assolutamente. Ognuno di noi ha bisogno dei propri tempi, ognuno di noi ha bisogno di elaborare il lutto, perché se non si elabora questo lutto, non ne verremo mai fuori. È difficile, specialmente per una madre, elaborare il lutto, perché è irreale, è una cosa che non ti aspetti, perché comunque sappiamo bene che l'elaborazione è difficile, già un lutto in sé, se poi è quella del figliolo o della figliola, è ancora più devastante, perché è contro natura, quindi essendo contro natura, automaticamente non puoi fartene una ragione. Non puoi fartene una ragione finché, una volta che hai elaborato un attimino questo passaggio, chiamiamolo così, allora ti soffermi e dici ok, io lo cerco, lo trovo, perché c'è, perché esiste, perché sappiamo benissimo che al di là esiste, lo sento, perché mi manda il segno, la piuma, la monetina, il cuore, la luce che si accende e si spegne, queste sono tutte cose che ovviamente io ho provato e quindi automaticamente le riferisco, questi sono tutti i segni che loro ti dicono mamma sveglia, ci sono, sono qua, cercami, quindi nel momento in cui abbiamo questo, ci dobbiamo svegliare e dire ok, abbiamo elaborato questa parte, elaboriamo l'altra dicendo a che cosa mi serve tutto questo, che cosa devo imparare da tutto questo, è difficile, veramente molto difficile, tuttora anch'io mi pongo delle domande, non credete, nonostante tutto, abbia fatto un minimo percorso, ma ce n'è ancora da fare e grazie anche a voi, piano piano lo si fa insieme, piano piano poi si elabora e si arriva a un punto dove dici ok, ho un compito forse da eseguire, devo capire il perché mi è arrivato questo dolore, devo capire forse devo essere più paziente, forse dovevo imparare effettivamente sentire nel profondo che cos'era l'amore e poi nello stesso tempo elargirlo più agli altri, sono tutte queste domande che poi alla fine ci fanno capire effettivamente che purtroppo, e dico purtroppo, senza il dolore non capiamo assolutamente nulla, perché siamo umani, siamo terreni, attaccati, radicati al terreno, quindi ecco, forse dovremmo cominciare un po' a comprendere, specialmente in questo periodo di grande trasformazione, di grande cambiamento, dovremmo capire un pochino, a lasciare andare un po' più le cose del terreno, no? Di essere meno materialisti materialisti in tutto quello che c'è intorno e guardare al di là. Ciao cara, ciao Anna Maria, ciao. Cesare, buonasera caro, tra un poco ti lascio subito il posto, seguite Cesare perché è una persona meravigliosa. dunque, Marina Ciuti, saresti così anche se non avessi avuto la gioia di risentire il tuo figlio dorato? Allora, io credo che in noi, io credo che in noi ci sia sempre quel gioire, tra virgolette gioire, attenzione, io quando parlo gioire lo dico sempre tra virgolette, perché io credo che comunque tutti noi, anche te compresa, puoi sentire il tuo figliolo o puoi sentire un tuo caro. Non c'è un privilegio, assolutamente. L'unica cosa che bisogna fare è aprire il cuore. Io ho sempre creduto in un al di là, ho sempre creduto che al di là ci fosse un'altra vita. Per me questa vita, l'ho sempre detto, ma non ora, lo dico già da ragazzina, non mi appartiene, ma perché su tante cose io non mi ci trovo. Per quanto io credo di sì, io prima di avere questa, chiamiamola perdita, tra virgolette, del mio figliolo, ho avuto una perdita molto importante per me, ed era una ragazza, avevo 19 anni, è venuta a mancare mia sorella, che per me era l'idolo, per me era l'idolo, io essendo cresciuta senza il papà, perché l'ho perso, che avevo 4 anni, la mia mamma ovviamente si è tirata su le maniche per andare a lavorare, per tirare su 4 figlioli, e quindi mi sono appoggiata a mia sorella, che poi aveva solo 5 anni in più di me, non è che ne avesse tanti di più, eppure ho perso lei a 30 anni, io avevo 20 anni, e vi posso garantire che per me è stato devastante, ma non per questo, io non abbia creduto, che al di là ci fosse, quindi sì, io ti rispondo, io credo di sì, mi hanno un po' spianato la strada, quindi questo vuol dire che io ero già predisposta per capire che comunque al di là c'era la vita, vi ripeto, per me questa vita è sempre stata solo un'illusione, per me, quando mi parlavano anche da ragazzina che mi dicevano inferno, paradiso, io tra me dicevo, ma secondo me l'inferno è questo, di là c'è qualcosa di molto più magnifico, di molto più reale, e oggi posso dire avevo ragione, perché comunque effettivamente alla fine poi vediamo che tutto quello che ci succede intorno, questa, il purgatorio secondo me lo stiamo già vivendo tutti quanti insieme, quindi io credo che sia questo, quindi vedo un attimo se ci sono domande, se ci sono delle domande fatemele, io nel frattempo guardo l'orario, che cosa vuoi dire Laura Baroni, meno male che ti è successo a te, non riesco a capire questa domanda, cosa vuol dire questa affermazione, se magari me la spieghi, allora vediamo un po', Antonella buongiorno, buonasera, Monia buonasera, vediamo un po', allora Patrizia, i segni ci sono anche tramite le parole delle canzoni, vero, che si risuonano in testa, soprattutto al mattino appena svegli, ma guarda io spessissimo mi sveglio con una canzone nella testa, più che altro che la canzone è il ritornello, ma questo mi succede anche di notte, siccome dormo poco ovviamente, io di notte mi sveglio, poi puntualmente mi sveglio alle tre, sembra che qualcuno mi svegli in quel momento, e io credo già che sia, e puntualmente mi sento questa canzone, mi sento questo ritornello, ma me lo cambiano in continuazione, e non vi nego che dopo vado a guardarmi il testo, e alla fine ci ritrovo un messaggio, perché effettivamente alla fine dopo se ce lo rileggiamo, è un po' un messaggio che ci arriva da loro. Monia è d'accordo con me, sai Monia io non ho la verità in tasca, io parlo sempre non perché ho studiato, perché non ho studiato, non perché sappia, perché non so, parlo soltanto per esperienza personale, perché io quello che racconto, quello che dico a voi, è perché lo sto vivendo sulla mia pelle, né più né meno, quindi è un confronto con voi, poi magari su tante cose sicuramente mi sbaglio, ne avrò ancora tante da imparare. Dunque, Damiano, anch'io ho perso il babbo quando avevo 4 anni, e mia madre rimasta vedova a 26, quindi capisco bene, con 5 figli di cui 2 stavano per nascere, capisco bene la tua mamma cosa ha dovuto passare, e di ripiego anche voi, perché comunque non è facile crescere, e a volte l'adolescenza non te la vivi neanche a pieno, perché comunque devi crescere in fretta, perché comunque devi dare una mano in casa, perché comunque la mamma è già fin troppo quello che fa, e quindi questo è, quindi diventa difficile, diventa veramente difficile. Marina, la tua testimonianza aiuta? Lo spero, lo spero perché questa è un po' una mia missione che faccio, perché comunque il mio IVA mi dice sempre, mamma non tenere le cose che ti arrivano per te, perché non servono a nulla, perché è come se tu il seme lo butti via, mentre invece un seme, anche che sia soltanto uno, va piantato nel terreno, e da quello verrà fuori il grande albero, piccole radici piano piano, e poi verrà il grande albero. Dunque, vediamo un po' se ci sono delle domande. Porti lo stesso nome della mia mamma. Hai visto Claudio? Claudia, porto il nome della tua mamma. Allora, Allora, Damiano, concordo con il purgatorio sia nella vita, io ho notato nelle persone che seguo le pre-morte, dopo un momento, scusate, sto leggendo la domanda, in armonia e lascia la consapevolezza. Beh, è bello quello che hai scritto. E' una cosa un po' difficile da fare, no? Quella di accompagnare le persone. Io ho avuto modo di farlo questo non molto tempo fa, con la sorella di mio marito, ed è, mi è rimasto un po', mi è rimasto un po' un segno nel cuore e nell'anima, perché comunque bisogna essere molto forti, bisogna essere molto preparati, perché comunque non è facile. sto studiando su questa cosa, perché comunque è giusto che si ampli un po' la visione di tutto questo. Allora, Marika, spero di poter sentire mio figlio che è volato da 15 mesi, ma finora non l'ho neanche sognato mai. Allora, voglio rispondere a Marika in maniera è difficile, Marika, lasciare andare il dolore, perché il dolore non lo lascerai andare mai, te lo dico da mamma. Il dolore ti accompagnerà fino al tuo ultimo giorno, finché non lo ritroveremo di là. Però puoi fare una cosa, lasciare la disperazione, dolore e disperazione sono due cose completamente diverse che scindono tra di loro. Per quanto se tu mi lasci andare la disperazione, il tuo figliolo lo senti, lo senti anche nelle piccole cose, ti puoi accorgere anche del piccolo segno. A volte anche nel silenzio, imparate ad ascoltare il silenzio, il silenzio parla, parla tanto il silenzio. A volte qualcuno dice ma il silenzio mi mette angoscia. No, provate ad ascoltarlo il silenzio, ascoltatelo nel profondo, immededisimatevi nel silenzio, sentirete i passi in casa, sentirete i propri passi, sentirete qualcuno che vi siede al fianco e nel silenzio ritrovate voi stessi e ritrovate anche il vostro figliolo. Il primo pensiero che vi passa, veloce nella mente, è lui, il brivido che sentite veloce sulla schiena o appena appena il tocco di capelli che sembra quasi una mosca, una zanzara che passi, è la carezza che vi sta arrivando. I vostri cari ci sono, ci sono, ma da subito ci sono e questo ve lo posso assicurare. Dobbiamo soltanto aguzzare la vista e tenere bene attente le orecchie perché qualsiasi cosa loro ci sono. L'altro giorno è stato il mio compleanno e allora vi racconto questa, questo per farvi capire come ci sono vicini, no? La prima cosa che ho fatto, come faccio tutte le mattine, io ho l'abitudine la mattina quando mi alzo di andare a salutare il mio figliolo e di accendere un lumino bianco, ho dei lumini bianchi che li accendo tutte le mattine, poi li lascio lì che si consumano da soli. Sono andata lì e gli ho detto io aspetto i teoi auguri, ora vedi tu perché parlateci insieme, parlateci, loro vi rispondono. Dopodiché ho preso il mio cane, sono scesa giù in giardino e appena sono scesa in giardino cosa mi sono trovato? Un pezzettino di pane offromò di cuore. Quelli erano i suoi auguri. Ho tirato sugli occhi al cielo e ho ringraziato. In quel momento è passato un gabbiano che cantava, sembrava quasi che discesse ciao mamma. Non sono pazza, sono cose che realmente accadono. Quelli erano gli auguri del mio figliolo. Quindi ho iniziato la giornata serena, in allegria. Per carità, la mancanza fisica la sentiremo sempre, ci sarà sempre la mancanza fisica. Quel posto vuoto lo vedremo sempre. Però anche a quel posto vuoto parliamoci, parliamo con loro, parliamo. Loro in una maniera diversa ci parlano, ci rispondono. È questo che noi dovremmo sentire nel cuore. Quella piccola vibrazione che vi arriva all'improvviso, quel battito improvviso del cuore che sembra quasi che sobbalzi. La loro carezza sono loro che sono dentro di noi, c'è poco da fare. Ci sono, ci sono, impariamo questo. Se noi impariamo questo, allora automaticamente ritroviamo i nostri figlioli. E credetemi che da quella piccola cosa, da quella piccola briciola, si apre un mondo veramente meraviglioso, ma veramente meraviglioso. Credetemi. Quindi penso di averti risposto alla domanda. Lascia stare la disperazione, perché il dolore ti rimarrà sempre, tesoro, ti rimarrà a vita. Però, se lasci andare la disperazione, te lo ritrovi in maniera diversa e lo vivi in maniera diversa. Quando le parliamo, non parliamone con la voce mesta, con la voce triste, parliamo di maniera gioiosa, perché loro vogliono questo. Loro vanno nella nostra vibrazione. Più è alta la nostra vibrazione, più loro si avvicinano a noi. E questa è una cosa meravigliosa. Io sto parlando con voi, ma credetemi, non era una diretta preparata, ma io sento che lui è qua, perché sto sentendo proprio le spalle qualcuno che me le sta sorreggendo, perché lui sa come io, nonostante tutto, sia anche un po' timida e vergognosa, no? Perché mi vergogno, cerco sempre di stare un po' nel mio, però non mi posso tirare indietro a fare una diretta, perché so che posso aiutare delle altre mamme, quindi vinco la mia timidezza e lui mi aiuta in questo, lui mi aiuta in questo, quindi fatelo, ma credeteci con il cuore, perché se voi credete con il cuore avrete delle conferme eccezionali e inspiegabilmente sarete gioiose e non sentitevi in colpa perché siete gioiose, perché alla fine è quello che loro vogliono, è un po' quello che diceva Pocanzi Susi, no? Cerchiamo di essere gioiose, è difficile per noi mamme, lo comprendo, però se questo può far felice il vostro figliolo, perché non farlo? Lo fareste? Allora, vediamo se ci sono delle, allora, Serena, a me è morto il mio babbo a 48 anni, io ero molto giovane, avevo 21 anni, 35, non c'è più, manca, sì, capisco bene, però vedi, vedi, brava, senti il fumo della sua sigaretta, come io tante volte vado nella cameretta dove, del mio IVA e sento l'odore della sigaretta, lui fumava le Marlboro Lights, hanno un odore un po' agre, ma io lo sento, e quindi c'è, e sinceramente sorrido e le dico, ah, ti stai fumando la sigaretta, c'è che ce la fumiamo insieme, quindi io proprio ci parlo con lui, ci parlo come se fosse presente, magari non lo vedo con gli occhi della carne, ma lo sento con gli occhi dello spirito, lo vedo con gli occhi dello spirito, c'è poco da fare, io lo vedo, lo vedo come, allora, Damiano, la ferita è stata sul riconoscimento, non dovevo vivere con la paura di perdere anche mia madre, e mi sono ritrovata a diventare un piccolo uomo, e cresciamo in fretta, amore, quando i nostri genitori hanno bisogno, o volente o dolente, dobbiamo crescere in fretta, la mia domanda è come ti affidi ad essere compresa dalle persone, se vi è paura di sbagliare, portando giudizi, dunque, c'è paura di sbagliare perché presumo che arrivano con tante aspettative nelle richieste ben precise, se il risultato ha portato il giudizio, allora, no, assolutamente, io sul giudizio sinceramente non ci penso minimamente, e ti dico con molta sincerità, Damiano, io do quello che mi arriva, io mi esprimo per quello che sento e per quello che ho vissuto sulla mia pelle, io sono sincera con me stessa, quindi, non penso al giudizio dell'altro, perché comunque in me, non essendoci nulla da ricriminare o quant'altro, io ti dico la verità per così, per com'è, poi, se l'altro vuole avere un giudizio, ha un problema suo, a me non mi appartiene, sinceramente non mi appartiene, io ho imparato a scindere queste cose, non mi sono mai curata, sinceramente ti dico, io non faccio nulla per far sì di piacere per forza agli altri, non dobbiamo per forza piacere agli altri, io sono così, io mi presento così per come sono, se mi accetti bene, se non mi accetti molto bene in mente non siamo nella stessa sintonia, quindi ognuno è libero di andare nella sua strada, io quello che faccio è una missione che faccio d'amore, quindi per me tutto quello che dico e tutto quello che faccio è amore, di una cosa sono certa, io non gioco con il dolore e questo dovremmo impararlo tutti, tutti, non bisogna giocare con il dolore degli altri persone, bisogna avere molto rispetto e se la persona in quel momento non è pronta bisogna avere una pazienza infinita, io ho aspettato 14 anni prima che mio marito fosse pronto ad accettare quello che io faccio, perché lui non era pronto, però ho rispettato i suoi tempi, ma ciò non vuol dire che io abbia dato giudizio né tanto lui intelligentemente abbia dato giudizio a me, quindi il giudizio secondo me non dovrebbe neanche esistere, forse perché non sono una persona che giudico ognuno deve fare il suo percorso per come l'è detta l'anima. Dunque, Federica, anche gli animali avvertono eventuale presenza in casa? Gli animali sicuramente sì, perché io ho il mio cane che ogni tanto punta l'entrata e non c'è verso di, poi si rizza tutto il pelo, a volte mi gioca con il cuscino da solo, ma ovviamente non gioca da solo perché c'è ovviamente qualcuno che ci gioca, gli animali sono i primi, i gatti e i cani, più che altro da quello che so che mi raccontano anche i gatti hanno una percezione in più, ma anche il cane ve lo posso garantire, decisamente sì. Dunque, Gina mi fa i complimenti, Gina senza di te, io sono zero. Allora, Monia, ciao Marisa, una mattina sono certa di aver sentito sussurrare all'orecchio mamma, credimi, era davvero chiaro ed ero perfettamente sveglia, mi sono spaventata e ad oggi sono arrabbiata con me stessa, ma no, ma perché arrabbiata con te stessa, perché Monia arrabbiata con te stessa, assolutamente no, spero con tutto il cuore di poter risentire quel sussurro che mi chiama, certamente oggi non avrei più paura perché ho reagito così. Allora, si reagisce così perché ovviamente non te lo aspetti, però non essere arrabbiata con te stessa, Monia, tanto guarda, il tuo Davidino vedrai che la sorpresa te la fa, perché tanto i segni te ne dà talmente tanti il tuo Davide che sono certa di questo. Quindi, la prossima volta sarai più pronta, la prossima volta poi voglio dire imparate a fare come faccio io, chiedete, 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 chiedete e vi sarà dato, ma credetemi, se io chiedo dopo, nell'arco della giornata, arriva, bisogna soltanto essere attenti, bisogna essere attenti, più siamo attenti e più ci rendiamo conto delle gioie che ci possono dare. Allora, Miria, io in questi anni ho avuto tantissimi per me, però, da mio figlio mi è apparso anche in una foto fatta fuori, decisamente, sì, io ne ho di foto dove mi è apparso il viso del mio IVA, ve lo posso garantire, poi guardate, mio marito si è ricreduto dopo tredici anni e mezzo, l'otto di dicembre, lo dirò sempre perché questa è una cosa che mi affascina, l'otto di dicembre del, era il giorno della Madonna, me lo ricordo perfettamente, un anno e mezzo fa, mio marito l'ha visto in camera da letto, ha proprio visto mio figlio in camera da letto, è venuto un coccolone, però perlomeno l'ha risvegliato, quindi vedete che piano piano i ragazzi arrivano, hanno una pazienza infinita con noi, hanno una pazienza infinita, ecco, ha fatto di tutto IVA per esserci prepotente, ma il mio IVA quando vuole qualcosa, lui così era in vita, così lo è di là, perché comunque sappiate che il carattere non lo cambiano, se sono caparbi di qua, sono caparbi anche di là, perché questo me l'ha me l'ha fatto vivere sulla mia pelle, perché lui quando decide che vuole qualcosa, difficilmente non la ottiene, e tuttora difficilmente non la ottiene, Carmela, Carmela hai ragione, è difficile, ma a volte ridiamo pure, lo dobbiamo fare Carmela, d'altra parte abbiamo questa vita, questa vita è un dono che ci è stato dato, ci ha piegato dal dolore decisamente, ci ha piegato decisamente tanto dal dolore, il tuo dolore è doppio, io conosco la tua storia, sinceramente mi inchino davanti a te, veramente, però abbiamo il dono della vita, a volte in alto, a volte in basso, a volte su, a volte giù, con fatica, ma ce la dobbiamo fare, ce la dobbiamo fare, perché loro vogliono questo, e da questo nostro percorso di vita dobbiamo imparare qualcosa, dobbiamo imparare e dobbiamo dare amore e aiuto agli altri, questo è il nostro compito terreno, senza amore non andiamo da nessuna parte, non siamo nessuno senza amore, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma alla base di tutto c'è l'amore, l'amore, la condivisione, la comprensione, se uno non comprende in quel momento, non arrabbiamoci, lasciamo correre, vuol dire che non è il suo momento, portiamo comprensione, con la comprensione arriviamo a tutto e ci diamo, questo vuol dire darci la mano un l'altro, catena d'amore, una grande catena d'amore, questo dobbiamo fare, una grande catena d'amore, marina, regalo tutti i miei buongiorno e buonanotte, lo facciamo tutte noi mamme, tutte noi mamme, so che lei è in me, perché io amo e la sento, l'amore dei nostri figli, lo sentiamo, lo percepiamo nel profondo del nostro cuore, ciao a tutte, io vi saluto, sono stata a scorteggio, non ho salutato una per una, ma perché avevo veramente poco tempo e quindi poi devo lasciare, allora, Marica, Rocco, spero con tutta me stessa di riuscirci a allontanare la disperazione, un passettino per volta, Marica, un passettino per volta, abbiamo questo gruppo, questo gruppo, Gina Antonelli ha fatto questa pagina per tutti, tutti noi, per quanto, se un giorno abbiamo un momento di scomporto e vogliamo scrivere sulla pagina per chiedere aiuto, ma perché non lo facciamo, Gina ha aperto questa pagina proprio per questo motivo, l'ha lasciata libera a tutti, come vedete, dal libero sfogo a tutti, quindi mano nella mano, nel rispetto, nell'assoluto rispetto, cerchiamo di aiutarci un l'altro, siamo qui per questo, siamo tutti una grande famiglia che ci dobbiamo aiutare, ecco perché è nata la pagina dello specchio dell'anima e Gina ci mette veramente tutto l'amore possibile che lei possa fare e noi di riverso cerchiamo nel nostro piccolo di dare un contributo, voi aiutate noi e noi aiutiamo voi, è un contributo uno con l'altro, uno con l'altro, ah forse ho capito male Damiano, vediamo, non intendevo questo sul giudizio tuo ma al contrario, il giudizio della persona che viene con richiesta di aspettative, allora, ho capito cosa intendi, scusami, l'avevo, l'avevo frainteso, le aspettative, io dico sempre, anche quando vengono da me a fare un contatto, allargate il cuore, non aspettatevi nulla, io non chiedo mai nulla, quindi non chiediamo nulla, saranno loro a dire quello che vogliono dire perché loro già ci leggono nell'anima e sanno perfettamente di quello che noi abbiamo bisogno, poi se la persona che io ho davanti non l'ha compreso fa niente, non l'ha compreso magari nel momento perché comunque le è arrivato d'impatto ma secondo il mio punto di vista quando va a casa e si rilegge il messaggio o se lo riascolta sicuramente lo comprenderà e se non sarà che l'ha compreso in quel momento lo comprenderà nei giorni a seguire io non lo dico sempre non aspettatevi nulla quando ci sediamo uno di fronte all'altro apriamo il cuore entrambi aiutiamoli e quello che arriva arriva loro sanno quello che ci devono dire e poi comunque i ragazzi sono fantastici quando arrivano perché comunque ci danno tanto di quell'amore e esprimono tutto il loro sentire i loro sentimenti che ce li trasmettono proprio nell'anima e nel cuore c'è poco da fare quindi non credo che le aspettative poi sai dipende se uno si aspetta che arrivi lì e le dia i numeri all'otto forse è sbagliato persona doveva andare da una cartomante o doveva venire da me o da chiunque altra allora dunque vediamo se Mary mio figlio è andato via tre anni fa poi grazie a tanti segni che ho avuto ho iniziato a fare metafonia ecco bellissimo anche la metafonia è uno strumento meraviglioso perché comunque anche soltanto sentire un ciao è qualcosa che ti riempie l'anima quindi qualsiasi mezzo voi potete parlarci con i vostri figli cominciate a fare un po' di meditazione cominciate così cominciate a fare un pochino di meditazione pochi minuti al giorno piano 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 cominciate ad ascoltare voi stessi e dopo di che piano piano chiedete dammi un segno dammi un messaggio ricordatevi che anche nella mente vi possono parlare la prima parola veloce improvvisa che vi arriva sono loro volete avere la conferma benissimo vedete nell'arco della giornata fammi vedere una macchina fucsia una cosa strana qualsiasi cosa certo non una cosa e vedete che vi danno la conferma io l'ho fatto nei primi periodi l'ho fatto quando mi faceva scrivere che dicevo sì vabbè la mia mente oh mio dio sto impazzendo allora dicevo vabbè e allora dammi un segno dammi un segno se effettivamente quello che ho scritto sei tu realmente fammi vedere il colore arancione io magari andavo fuori e mi vedevo l'arancione quindi da questi piccoli segni e questo piano piano vi fa mettere da parte la razionalità perché quello che noi non riusciamo a comprendere e a farcelo nostro è perché siamo troppo razionali quindi lasciamo andare la razionalità l'amore l'amore è l'arma più potente in possesso di noi esseri umani decisamente simonia senza l'amore non andiamo da nessuna parte mettiamoci l'amore siamo unite una con l'altra l'amore l'unione l'aiuto l'umiltà uno con l'altro il non giudizio uno con l'altro questo ci aiuta ci aiuta tanto se quella persona in quel momento non ha compreso non diamole un giudizio è perché molto probabilmente quel momento non era il suo momento non lasciamo andare piano piano vedrete che poi alla fine capirà e verrà piano piano dalla nostra parte se non verrà dalla nostra parte non dobbiamo darle un giudizio perché tanto non era il suo momento non era veramente il suo momento grazie a te Gina ti voglio un mondo di bene tu lo sai lo sai veramente ogni tanto ti rompo un po' troppo le palle al telefono però vabbè sai che io sono fatta così io poi esterno molto il mio affetto io esterno molto quello che sento a volte mi devo ritirare un attimo ma io sono così io se voglio bene una persona e sento affetto lo devo lo devo dire lo devo esternare perché per me l'amore e dire un ti voglio bene una volta in più è qualcosa di magnifico è qualcosa di meraviglioso bene io direi che ho fatto una diretta molto veloce ora ci sarà Cesare se non sbaglio datemi conferma ma credo proprio che ci sia Cesare perché non ho il telefonino per vedere seguitelo perché Cesare è una persona eccezionale lui studia lui è qualcosa di meraviglioso veramente una persona meravigliosa vi saluto vi saluto tutti grazie di avermi ascoltato nel mio piccolo scrivete sulla pagina se avete bisogno noi ci siamo ci siamo per tutti grazie ancora grazie della diretta Luca grazie del veloce come vedi ti ho contentato grazie a te e grazie a tutti vi saluto e alla prossima un bacio seguite Cesare che è importante seguitelo perché mi farà una bella una bella diretta bacio a tutti grazie buona serata grazie a tutti